Devo mettere a posto una persona, però devo parlare con te. Se vogliamo lanciare una macchina, ti mandiamo. In una bottiglia, mentre sei in moto, perché se arriva la bottiglia, la ponte, la metti, ci vanno davanti. Sì, non ti parto in casa sotto le conseguenze. Hai capito? Ora c'è da ricacciare la tua! All'asta le porte! Ti apri il posto! Ti capo ti faccio vedere io, ti sono agli occhi. Forse non mi conosci bene, non giocare, non me le fotte un c***o che mi stanno ascoltando, non voglio neanche più i soldi. Però a casa mia ti ricordi che mi porto con un pezzo di te. Ciao! Mi ha detto, ma dove fai il mafioso con me? Con noi? Se non passo tutti i mesi, c***o. Vuoi vedere che vengo ogni mese? Non c'è i soldi. Non c'è maэ, c***o. è una merda che fatelo, però se non sia come se mettermo un viello un boccato la prossima testa di posto di libro, che è arrivata che trovate male Quando mi trovate il mio ciotero abbiamo pensato non so non dunque ho provato in cala, vogliavano. Mi sono cercano di prendere il mio ciotero, ma di questo tipo di mettere l'ambiente Sì. 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 Sì.